Un anno fa, quando è nata Agertec, avevamo l'obiettivo di semplificare la gestione della normativa agricola attraverso il digitale. Parlando con gli agricoltori però è emerso un problema. La tecnologia agricola sta progredendo, eppure molti agricoltori non riescono a tenere il passo. Per gli agricoltori risulta difficile acquisire nuovi strumenti digitali, perché oltre ad avere scarse competenze digitali, hanno una gestione aziendale dei campi, gli adempimenti normativi e un'instabilità meteorologica che porta via una grande quantità di tempo. È così che Agertec ha una nuova mission, rendere la tecnologia accessibile a tutti gli agricoltori e permettere loro di concentrarsi sulle proprie coltivazioni. Attraverso una piattaforma digitale, semplice da utilizzare, che digitalizza la gestione delle aziende agricole. Vediamo insieme le funzionalità. Allora, c'è una gestione dei campi delle aziende e delle colture, insieme ad un sistema di supporto alle decisioni per una maggiore efficienza gestionale, la compilazione automatica del registro dei trattamenti per ridurre il tempo dedicato alla burocrazia, e un'assistente digitale per semplificare il data entry. Una chat pone le giuste domande all'agricoltore e compila il software in automatico. Il nostro target è rappresentato da Giovanni. Giovanni ha 40 anni, è interessato a digitalizzare la sua azienda agricola, però non ha tempo a disposizione perché ha troppo lavoro da fare. Oppure come Laura, Laura ha 32 anni, ha ereditato l'azienda agricola del padre e ha provato a digitalizzare la sua azienda, ma a molti software le sono risultati complicati, quindi ha lasciato perdere. Adottiamo un modello di business freemium. Questo vuol dire che l'agricoltore potrà familiarizzare con la piattaforma utilizzando le funzionalità base, senza costi e senza limiti di tempo. Ovviamente per accedere alle funzionalità avanzate, attiverà una sottoscrizione annuale, il cui valore varia a seconda dei moduli aggiunti. Il mercato dell'agritech è un mercato in espansione a livello globale, ma possiamo vedere anche a livello italiano. Infatti ha raggiunto un valore di 2 miliardi di euro nel 2022, un più 31% rispetto all'anno precedente. Non siamo soli sul mercato, ci sono altri player, però molti dei nostri competitor offrono delle piattaforme con delle funzionalità, ma poco intuitive per gli agricoltori. Altri invece offrono una piattaforma molto semplice da utilizzare, ma con poche funzionalità. Noi di Agertech vogliamo unire semplicità e ricchezza di funzionalità. Il team è composto da me, che mi occupo della parte dello sviluppo del business, Valentina che è la nostra esperta del settore agricolo e Alessio che è il nostro full stack developer. L'interesse verso la nostra piattaforma è rappresentata da 10 agricoltori che ci hanno scelto per testare la piattaforma, di cui 3 clienti dei nostri competitor. Abbiamo iniziato un percorso di accompagnamento con RISO e abbiamo vinto il primo premio dell'agribusiness innovation. Fino ad oggi, in quest'anno, abbiamo validato i problemi, abbiamo costruito la nostra versione alfa, fatta testare dagli agricoltori e quindi sviluppato il nostro MVP che a settembre, in questi giorni, verrà utilizzata poi dai 10 agricoltori. Cerchiamo finanziamenti, partnership e tester. La maggior parte dei finanziamenti verrà utilizzata per la commercializzazione e per la creazione delle reti partnership, per lo sviluppo dell'assistente digitale e delle funzionalità avanzate. Vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i nostri contatti. Vediamo se ci sono domande dal comitato. Non ce ne sono. Io ti chiederei, ho visto che volete integrare il parco macchine, avete già fatto dei test di integrazione, come vi integrate con un trattore? Allora, noi quello che facciamo all'interno della piattaforma, ci stiamo concentrando proprio sullo sviluppo di una piattaforma semplice. All'interno l'agricoltore mette manualmente i dati relativi alla macchina e quindi quello che stiamo facendo è che siamo già in contatto con una start-up che lavora ad esempio sulla guida autonoma dei trattori. Quello che faremo è integrare attraverso i PI il lavoro che fanno loro. No, perché ho visto, mi ha colpito il chatbot a cui chiedevi quanti litri di gasolio ho consumato. Esatto. Come fai a prendere quel... Sono informazioni che prenderemo poi direttamente dai trattori. Diciamo che noi siamo partiti dal concetto che il mondo agricolo è pieno di tecnologia, però non esiste poi effettivamente una piattaforma che sia in grado di unificare tutto. Va bene. Va bene.